Siamo con Marco Chiesa, direttore della Col di Retti di Vercelli, state facendo una raccolta firme anche qua al mercatino. Sì, una raccolta firme molto importante, in questo caso per i nostri elevatori che producono latte, in quanto ormai da molto tempo e soprattutto in questo ultimo periodo il prezzo del latte alla stalla non è mai stato così basso, ma se noi poi andiamo nei centri di distribuzione vediamo che invece questo prezzo al litro viene n volte moltiplicato a danno di tutti i consumatori. Quindi noi stiamo facendo questa battaglia per difendere i nostri produttori, per difendere le nostre stalle. Tenete conto che solamente nell'ultimo anno mille stalle in Italia hanno chiuso, causa proprio questa scarsissima, direi, remunerazione del prodotto che non consente nemmeno di compensare i costi di produzione che hanno i nostri allevatori. E noi abbiamo proprio pochi giorni fa iniziato una nuova, un'ennesima battaglia su questo fronte davanti agli stabilimenti della multinazionale Lactalis, la quale negli ultimi anni ha assorbito alcune marche importanti, quelle Parmalat, Galbani, Invernizia ed altre ancora marche italiane. Però ovviamente la situazione oggi che è un attimino in stallo, cerchiamo in tutti i modi, attraverso anche la politica nazionale, attraverso anche l'antitrust di smuovere questo regime di assoluto monopolio sul prezzo. Il latte che spesso è denominato latte italiano ma che molte volte poi dentro i brick non è fatto italiano, giusto? Giustissimo, purtroppo è proprio così. Vi cito un unico esempio che può valere su tutti, il latte UHT. Un litro di latte UHT su quattro è italiano, ciò significa che il restante tre litri su quattro non è italiano. Oppure un altro esempio, una mozzarella su due non è italiana anche se viene spacciata come made in Italy. Noi non diciamo no alle importazioni, noi diciamo però innanzitutto di difendere le produzioni nostre territoriali e nazionali e poi che ci sia per tutte le produzioni che vengono importanti quotidianamente sul nostro territorio nazionale che ci sia una origine, una tracciabilità degli alimenti, quindi di ogni produzione, in modo che il consumatore quando acquista faccia un acquisto consapevole della provenienza. Questa è assolutamente la nostra battaglia che stiamo facendo da anni, abbiamo ottenuto dei risultati importanti perché alcuni prodotti nell'agroalimentare sono già tracciati, c'è già un'origine degli alimenti, però abbiamo ancora tanto da fare perché molti altri prodotti non hanno ancora l'etichettatura. Una raccolta firme a livello nazionale, l'obiettivo sarà quello di? Allora una raccolta firme a livello nazionale, l'obiettivo è quello di sensibilizzare al massimo il consumatore, cioè tutti noi, perché oggi il nostro fedele alleato è proprio il consumatore che viene con noi a fare le nostre battaglie, ma a fare le battaglie di tutti e questo serve per sensibilizzare non solo l'opinione pubblica, ma per sensibilizzare il mondo politico, in primis il ministro Martina che con noi sta facendo delle battaglie importanti, ma per sensibilizzare anche le multinazionali perché così facendo si crea solamente la fine dell'allevatore, la fine delle stalle italiane in questo caso, ma la fine della tipicità della nostra grande agricoltura, che non dobbiamo mai dimenticare, è la prima agricoltura al mondo per prodotti tipici. Ringrazio Marco Chiesa e beviamo latte consapevolmente. Assolutamente sì, grazie.